buongiorno carissimi amici italiani allora oggi vi traduco la lettura dei defunti degli angeli che è stata già fatta in francese quindi proprio perché riassumo veramente con praticamente zero commento ma quello che è venuto fuori sarà molto breve per voi comunque vi ringrazio sempre della vostra fedele attenzione per le condivisioni pollicini e i bei messaggi che ricevo allora oggi i difunti anzi il difunto è una donna poi potete adattare ma 99,9 per cento è una donna questa donna è una donna che nell'ambito familiare professionale amichevole è stata una donna molto admirata una donna che aveva una grande saggezza una donna che era molto aperta di spirito una donna probabilmente che amava viaggiare e se anche non ne ha avuto le possibilità questo è il suo sogno nel cassetto una donna che comunque si circondava di tantissime persone una donna che sicuramente allora il messaggio qui che è venuto fuori è molto semplice ci sono delle buone notizie questa settimana per qualcuno di voi e tocca veramente quella sfera maternità nel senso che se c'è un qualcuno che non riesce ad avere figli qua vi si dice chiaramente di viaggiare o di trasferirvi di viaggiare magari per andare a vedere degli specialisti dei specialisti perché si parla dell'olio listico si parla dell'energia quindi dei dottori energetici quindi quel messaggio in poche parole se non riuscite ad avere un figlio vi si chiede di viaggiare di espandervi di allargarvi di andare verso una persona di bussare alla porta giusta che vi possa aiutare a concepire questo miracolo se il vostro desiderio è di adottare perché magari non potete avere figli magari non dovete aspettare di adottare in italia ma andare altrove in un altro paese da qui questo spostamento questo trasloco definitivo o temporaneo ma vi incita proprio anche a viaggiare se questo è il vostro desiderio se avete aperto un'attività da poco che magari avete dovuto mettere da parte perché c'erano problemi di salute o qualunque altro tipo di salute di problema sembri che questa settimana ci siano delle buone notizie perché abbiamo l'arcangelo raffaele che è venuto fuori l'arcangelo raffaele l'arcangelo della guarigione e giustamente il defunto qua parla proprio anche di guarigione quindi per qualcuno c'è una guarigione fisica c'è questa guarigione anche di poter adottare di andare altrove per inseminazione forse trovare il modo comunque ecco di avere questo bimbo qualcuno accoglierà questo bimbo e magari una gravidanza al rischio quindi per qualcuno vi si dice che andrà tutto bene carissimi amici la lettura non parla a tutti vedete come risuona con voi ma non può parlare a tutti allora se per voi lo sentirete non ci sono parole per spiegarle ci sono lacrime di gioia ma c'è veramente pace in voi se invece c'è il contrario irritazione spegnete ok quindi è una donna la defunta una donna che era molto ammirata una donna che era molto rispettata con questa grande saggezza ma soprattutto una donna che comunque oggi vi dice che dovete andare a bussare alle porte giuste per poter realizzare pienamente il vostro sogno ma è anche una donna che del suo vivente era molto creativa una donna che sapeva essere molto come dire armoniosa e che se aveva un'idea in testa comunque la riusciva una persona che aveva molto carisma che aveva delle capacità di sviluppo molto armoniose e molto comunque come si dice insomma una donna che sapeva sviluppare tante cose insomma che aveva tante idee ma è anche una donna che aveva proprio questo gusto dei viaggi allora questa donna sembra che oggi voglia condividere con voi la sua ricchezza interiore e vi apre le braccia e vuole che voi riusciate a realizzare questo sogno a creare quello che volete creare ok qua è l'ultima arcana maggiore la carta del mondo e la carta del mondo parla proprio di trasloco di viaggio magari qualcuno desidera ricominciare altrove qualcuno desidera viaggiare conoscere altre culture vi si dice anche proprio di espandervi e di apprendere di allargare le vostre conoscenze ok si parla di successo di riuscita di buone notizie si parla quindi veramente di nuove opportunità e di grande felicità per qualcuno di voi vi si chiede di appoggiarvi sull'energia delle persone che vi circondano e proprio di tutto quello che vi circonda non solo le persone di aprirvi al mondo e ad altre conoscenze quindi di circondarvi da persone proprio per apprendere per evolvere e per rispandervi e per creare vi si chiede anche semplicemente di per qualcuno è proprio consigliato di partire in vacanza perché vi sarebbe molto benefico e anche proprio il trasloco ok allora vedete che si parla per qualcuno forse di capacità da sviluppare e forse fare un viaggio sciamanico spirituale o andare proprio da una guida per farsi aiutare si parla per qualcuno proprio di capacità che potete avere perché parla di un guarigione completa di fare appello a tutto quello che è olistico come vi ho detto prima alle medicine olistiche alle protezioni contro le energie negative quindi ai terapeuti ai terapeutici energetici e c'è questo desiderio proprio di gravidanza per qualcuno comunque di bambini e quindi poi adattate ma questo bambino può essere anche un progetto che vi vi tiene a cuore si può adattare veramente a tutti i campi della vostra vita ok buone notizie novità qualcuno ha delle capacità da sviluppare qualcuno deve partire in vacanza per risostarsi magari per accettare le proprie capacità vedete che comunque nei messaggi sempre defunti è venuto fuori i viaggi vabbè il defunto vi dice che lui può viaggiare può andare anche in mondi paralleli però vi consiglio proprio a voi a voi di partire in vacanza anche solo un weekend quindi il messaggio è molto chiaro qualcuno ha bisogno di partire di staccarsi un po dal quotidiano e magari proprio di traslocare altrove e poi se c'è un progetto di un bimbo di un'adozione di una gravidanza difficile magari professionalmente non trovate lavoro o la vostra azienda va male si parla di buone notizie per qualcuno l'abbondanza ritorna ok e soprattutto per qualcuno potrebbe essere il primo grande amore qui e anche i primi rapporti intimi perché si parla anche proprio di persone giovani quindi una transizione quindi potrebbe essere una mamma che dà qualche consiglio e che vi sta dicendo a questo figliolo a questa figliola è anche 30 anni mi dispiace dirlo ma ci sono persone che a 30 anni sono ancora insomma non hanno vissuto ancora il grande amore è qualcuno che non anche neanche ha avuto esperienze comunque questo è il messaggio dei difunti ok quindi di non perdere mai speranza perché ci sono buone notizie c'è una guarigione per qualcuno guarigione professionale si ritrova un lavoro si trova l'amore si potrà avere un bimbo un parto che andrà bene di viaggiare se questo il vostro desiderio riuscita successo gioia buone notizie in arrivo veramente nuove opportunità con l'arcangelo raffaele vi si dice anche che ecco il lutto per qualcuno e per i due e per voi anche per il difunto però sappiate che non siete mai soli questa persona continua ad esservi accanto quindi probabilmente c'è qualcuno che veglia su voi su una gravidanza che a rischio o sicuramente su delle problematiche non lo so adattate non siete soli e durante questa settimana vi invierà degli uccellini per portarvi il messaggio che vi deve aiutare in questa problematica in questo desiderio in questa creazione che avete ok gli angeli quindi come vi dicevo l'arcangelo raffaele ha detto proprio che c'è questa guarigione vi si chiede di non fermarvi di continuare e l'arcangelo michele lui dice che la persona alla quale voi pensate è una persona che degna di fiducia adesso però ve la spiego un po meglio questa qua perché ci sono molto più messaggi quindi questa ve la traduco l'arcangelo michele conferma che questa persona che è implicata in questa situazione è una persona che è degna di fiducia vi si dice anche che questa persona vi ama e i suoi atti sono in conseguenza comunque amichevoli ok quindi da non confondere tutto l'arcangelo michele vi chiede anche in una relazione di non pretendere la perfezione perché a voler la perfezione ci si mette la pressione nella relazione invece al contrario dovete trattare questo amico questa persona come vorreste che vi si tratta con amore e compassione e i messaggi supplementari con questa carta e di aver fiducia in sé di prestare fede ai discorsi di una persona anche se voi non l'amate come questa persona vorrebbe che voi l'amate l'amaste però ecco di portare attenzione a quello che vi dice per qualcuno c'è un uomo che farà un buon partner e anche sull'ambito professionale per qualcun altro vi si dice di cessare di criticare gli altri e di confidare le vostre colere e i risentimenti agli angeli per purificarvi per qualcun altro c'è una creazione un progetto un'idea che giustamente è realizzabile molto fiabile e qualcuno incontrerà il nuovo amore questo ve l'ho detto già prima che c'è sicuramente quell'amore con la maiuscola per qualcuno di voi soprattutto una persona abbastanza giovanotta qua uomo donna poco importa una bella espansione e si finisce con la carta dell'abbondanza questa abbondanza che sta per arrivare per qualcuno di voi con questo amore con questa adozione con questa nascita con questa guarigione con il fatto di uscire da alcune difficoltà quindi abbiate fiducia credeteci perché questa settimana per qualcuno di voi ci sono veramente belle notizie io lo auguro veramente a tutti e ma purtroppo non sarà per tutti e voi lo sapete bene questo messaggio arriverà a chi deve arrivare prendere il tempo che deve prendere ma so che arriverà a destinazione perché per qualcuno che si trova dietro al pc e che l'ascolterà questo detto fate attenzione alla lettura degli angeli potete prendere tutti questo messaggio l'incoraggiamento che vi dice di non fermarvi quando credete a un progetto di essere sempre fiduciosi di credere a questa abbondanza di attirarla con pensieri positivi e facendo come se l'avete già vi si chiede di non essere nella critica di essere all'ascolto anche di cosa hanno gli altri da dirvi di credere alla guarigione e di chiedere per ricevere quindi sono messaggi che potete prendere tutti ma quanto ai messaggi dei defunti ci dovete andare con molta cautela se c'è irritazione se c'è un qualcosa che vi disturba se c'è tristezza non è per voi quando il messaggio è per voi ci sono emozioni che non si possono spiegare ma soprattutto c'è felicità c'è appagamento c'è gioia c'è serenità c'è pace è un sentimento veramente sereno il contrario non è per voi quindi una settimana di buone notizie una settimana sicuramente di svolte positive che tocca tutti i campi della vostra vita allargatevi espandetevi muovetevi viaggiate traslocate cercate di evolvere studiando per acquisire nuove conoscenze credeteci e l'abbondanza frapperà alla vostra porta quindi questo è il messaggio per questa settimana non esitate a venire a mettere un messaggino giù se quel miracolo che aspettate si produce durante questa settimana perché qua per me sono veramente questa guarigione è un miracolo per qualcuno non solo fisica ma proprio anche per l'adozione di un bimbo per mettere al mondo un bimbo una gravidanza difficile qualcuno che sta vivendo in momenti difficili non fermatevi credeteci c'è un qualcosa di molto bello che per qualcuno sta per arrivare un bacione e a presto